Ciao a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con PlayStation Plus News. È notizia di poche ore il ritrovamento di una mappa misteriosa del tesoro nascosto in qualche meandro del nostro pianeta. Non ha perso tempo il famoso cacciatore di tesori Nathan Drake, che chiederà il vostro aiuto a trovarlo in Uncharted 4 Fine di un Ladro. Per voi sarà solo l'inizio del divertimento. La primavera è arrivata ed è già tempo di pulizia in tutto il mondo. Sporcarsi un po' le mani sarà inevitabile, ma anche divertente grazie a Dirt Rally 2. Per tagliare per primo il traguardo ci vorrà un bel po' di olio di gomito dei vostri motori. La nuova stagione si sa richiama nuovi look, specialmente in primavera. E allora ecco per tutti gli abbonati PlayStation Plus un ricco combat pack per Call of Duty Warzone, il modo migliore per rinfrescare le proprie giornate con una ventata di stile. Ma ora è tempo dei saluti, alla prossima!